Buon afflusso di visitatori negli spazi della fiera di Cagliari, la prima giornata del settimo festival di Scirarindi, in programma sabato 25 e domenica 26 a Cagliari. La rasegna Scirarindi è praticamente la prima grande manifestazione dedicata alla scoperta e alla celebrazione della Sardegna naturale. Tanti settori, economia etica e consumo critico, sostenibilità e nuovi stili di vita, produzione alimentari biologiche a chilometro zero e di qualità, bioedilizia e tutela dell'ambiente, turismo consapevole, ecocultura, medicine olistiche, discipline bionaturali e ricerca interiore. Il festival si articola in un percorso espositivo con nove aree tematiche e un programma culturale ricco di iniziative di approfondimento, con un cartellone di tantissime attività pratiche per sperimentare concretamente diversi aspetti del vivere naturale consapevole. Tavole rotonde e presentazioni garantiscono approfondimento e riflessioni, ma fare la protagonista sarà l'esperienza diretta attraverso la libera partecipazione ai laboratori pratici e a lezioni dimostrative, degustazioni e atelier creativi. Partecipa alla rassegna l'associazione di volontariato Amici di Sardegna, che da oltre 30 anni opera in diversi settori, tra cui ambiente, cultura e formazione permanente. Lo scopo dell'associazione è quello di far conoscere e far vivere la Sardegna e Sardie non solo. Amici di Sardegna si distingue anche per i suoi progetti di cooperazione internazionale per le scuole, ma anche progetti di inclusione sociale e di sostegno a distanza. Grazie a tutti!